Da non confondere con il medico estetico, il chirurgo estetico è un professionista laureato in medicina e chirurgia che ha conseguito una specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, iscritto e verificabile all'ordine dei medici sul sito preposto della Flomceo. Si tratta della branca della chirurgia che si occupa della ricostruzione di differenti tipi di tessuti. Suo scopo è andare a risolvere difetti congeniti, dalla nascita o acquisiti causa malattie o traumi. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. La scelta di rivolgersi a un chirurgo estetico e personale, ossia un paziente vi si rivolge quando la sua autostima viene meno causa un difetto estetico. Ci possono essere anche motivazioni funzionali come per il caso di otoplastica per orecchie troppo grandi e malformate, erinoplastica per modificare il setto nasale o la mastoplastica per ridurre il volume del seno, oppure per aggiustare parti del corpo danneggiate cause incidenti. È necessario consultare un chirurgo plastico anche in situazioni post-operatorie per controlli. La sintomatologia che può portare ad interpellare un chirurgo plastico può essere conseguenza di un'autostima che viene meno, quindi ragione anche psicologiche. Seno troppo piccolo o eccessivo. Danneggiamenti del naso a causa di traumi facciali. Ustioni gravi. Difetti dalla nascita come labbro leporino. Naso a patata. Stai cercando il chirurgo estetico specializzato più vicino a te. Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di uma innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitari e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di uma innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!